E bella a tutti ragazzi e benvenuti in questa ultima parte, che veramente questa è l'ultima parte di Kingdom Hearts 2 Allora ragazzi, ci troviamo ora nelle parti finali del castello Bisogna sconfiggere Luxord e Sykes Ah, come vedete qui è attivo, però non ci si può entrare, perché queste qui sono le uniche due mattonelle che possiamo interagire Allora, devo dire che queste sono le varie camere dell'organizzazione 13 Questa è Xigbar, questa è Xaldin E lì più avanti c'è la camera del nostro Xemnas, che è molto più avanti Ok, andiamo a battere Luxord È quello che gioco con le carte d'azzardo Mi sono sbagliato mezz'ora fa E sono ancora un po' stanco Aia, 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 aia Allora ragazzi, il combattimento con lui sarà un po' diverso Non c'ha la vita come tutti gli altri, ma ha il tempo Ora vedrete che cosa succede Vediamo se appare il consiglio Dopo tre anni Dai, su Ok, ecco Una battaglia per il tempo Vinci la battaglia per il tempo Allora Questa è una battaglia contro il tempo Questa è una battaglia, eh infatti, a tempo Finisce il nemico quando il suo tempo è scaduto Se Sora esaurisce gli HP o il tempo, la partita è finita Quindi ragazzi, bisogna fare In tutti i modi per Per consumare il tempo di Luxord E per vincere E per andare verso la vittoria Che poi alla fine ci sarà un colpo di scena Che Sora Utilizzerà le Le Forze delle carte Per sconfiggerlo Oh, guardate Ok Stiamo stati trasformati in un Aia Non abbiamo abbastanza difesa per Oh, via 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 Ahia, ho sbagliato Ho capito Ahia Ahia Ok, abbiamo fatto perdere un bel po' di tempo Leviamo queste carte perché... Ok Ok ragazzi Questo è il suo attacco finale Ok Ahia Ho perso Aspettate due secondi Aspettate due secondi che rispondo Grazie 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 a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. Ragazzi a tutti. Grazie 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 a tutti. il video. lo batto. e poi ci vediamo. E poi ci vediamo.